Cari fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi, la grazia del Signore che da sempre ricolmi la vostra vita, vi accompagni in un istante della vostra esistenza e faccio della vostra giornata e della vostra vita un inno di lodi a Dio rendendogli grazie per averci creati, rendendogli grazie per averci dato Gesù Cristo che ci ha redenti e salvati, che ha aperto per noi la porta del Santo dei Santi, che dà a noi il libero accesso al trono di Dio, non per i nostri meriti ma per la sua grazia, poiché egni ci presenta davanti al Padre come sua conquista, come opera della sua redenzione, come sacrificio gradito a Dio e ciascuno di voi infatti fratelli è gradito al Signore. Chiunque porta nel cuore lo Spirito di Gesù è gradito a Dio, tutti coloro infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio costoro sono figli di Dio e come tale abbiamo in Gesù libero accesso a quella altronde la grazia per ricevere misericordia e trovare grazia al tempo opportuno. Oggi la Chiesa ricorda un grande santo, uno dei più grandi maestri di fede della Chiesa, San Tommaso d'Aquino, che oltre ad avere una cultura eccezionale, una mente eccelsa, aveva un cuore da mistico e il suo cuore ricercava Gesù Cristo. Il suo slogan era quella di partecipare agli altri quando il Signore gli suggeriva nella preghiera, infatti scriveva sempre pregando, sempre immerso in adorazioni. A volte anche in mezzo a momenti difficili non si turbava, rimaneva imperterrido. Una volta viaggiava su una nave, c'è una tempesta e lui continuò tranquillamente a meditare e a pregare, come se niente fosse, totalmente abbandonato alla grazia di Dio. E San Tommaso ha scritto cose meravigliose, per anni noi sacerdoti abbiamo studiato le sue opere, anzi la teologia cattolica per secoli è stata illuminata dalla sua dottrina, che sapeva illustrare ogni argomento in maniera veramente sublime, proprio perché era frutto di preghiera. Poi al tempo del Concilio si è provato a smuovere questa dottrina, a sostituirla con altri insegnamenti più recenti, ma molti oggi stanno tornando a San Tommaso. Cosa strana, persino i protestanti oggi si stanno rivolgendo a San Tommaso d'Aquino. In momenti di confusione come quelli che stiamo attraversando, la sua parola veramente è ricercata. E avvenne nel 1272, che una volta stava pregando davanti al crocifisso, che gli chiese a Tommaso, cosa vuoi? Tu hai scritto bene di me, cosa vuoi? E come ricompensa? E lui chiese, Signore, io voglio te. E Gesù ti si manifestò. E allora lui mi dice di scrivere, perché diceva, quello che ho scritto, in confronto con quello che il Signore mi ha rivelato, è paglia, è roba da poco, rispetto a quanto lui mi ha fatto percepire. Ed è così, fratelli, la vera scienza è quella che viene dall'anima. Guardate, Santa Teresina del bambino Gesù, 24 anni, ma ha una conoscenza di Dio straordinaria, perché Dio si conosce con lo Spirito, si conosce col cuore. E così tanti altri santi, i mistici, hanno una conoscenza straordinaria del mistero di Gesù Cristo, proprio perché più che riflettere con la mente, loro hanno percepito, aperto il cuore, l'anima, la vita, e quindi con la fiamma dell'amore ha rivelato loro cose che arbitralmente la mente da solo non riesce a recepire. E questo è un insegnamento che vale per tutti noi, fratelli, quando ci avviciniamo a Gesù, a aprire il cuore, a aprire l'anima, a aprire la vita, a abbandonarci alla sua grazia. E l'atteggiamento che il Signore vuole da noi, la presunzione di comprendere tutto, di filtrare tutto, giudicare tutto, non avvicina a Dio, piuttosto allontana, perché la mente umana, per quanto è celsa, è niente di fronte alla sublimità della conoscenza del nostro Dio e Creatore e Salvatori. E la lettera agli ebrei che noi ascoltiamo oggi, nella liturgia della Messa, ci dà un grande incoraggiamento dicendoci «Abbiamo piena libertà in Gesù di entrare nel santuario per mezzo del sangue di Gesù». Gesù, con il suo sacrificio, ha spazzato via il velo del Tempio che ostacola l'ingresso del popolo al trono di Dio. Bene, per mezzo del sangue di Gesù, cioè della vita di Gesù, del sacrificio di Gesù, noi possiamo entrare nel sangue dei Santi. Ricordate che il sommo sacerdote dell'antica alleanza, della festa di Yom Kippur, cioè della purificazione del popolo, entrava nel sangue dei Santi ma portando in mano il sangue di animali per purificarsi. Noi ci presentiamo avanti al cospetto di Dio, col sangue di Gesù. Tu sei uno che Gesù ha riscattato a prezzo del suo sangue e lui mette nelle tue mani il suo sangue. Con questa certezza tu puoi presentarti con fiducia davanti al trono della grazia. Via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo. Quale velo? Quello della sua carne, cioè la sua carne. E poiché abbiamo un sacerdote grande nella casa di Dio, accostiamoci con un cuore sincero, nella pienezza della fede, con i cuori purificati, da ogni cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Presentiamoci davanti al Signore, ma con la sincerità del cuore, sapendo che la fede nell'amore di Gesù ci purifica, ci rinnova, ci rende puri e ci dà il coraggio di presentarci davanti a Dio. Senza perdere, dice qui, la speranza che è in noi, perché Lui è degno di fede dal momento che è il Figlio di Dio che ci ha rivolto le sue promesse. Quindi prestiamo attenzione gli uni agli altri per stimolarci a vicenda nella carità e nelle opere buone, senza disertare, dice naturalmente, le nostre riunioni come alcuni hanno l'abitudine di fare. Cioè la costanza, la costanza nel seguire Gesù, nell'appartenergli e nell'immergerci nella sua grazia giorno e notte. Perciò, cari fratelli, fissiamo lo sguardo, non solo noi stessi, ma sulla grazia che Dio ha messo nelle nostre mani. Il Sommo Sacerdote, quando si presentava davanti al Santo dei Santi, andava davanti all'Arca dell'Alleanza, portava il sangue di animali. Noi andiamo col sangue di Gesù. Questa è la via nuova che Dio ha messo nelle nostre mani e ci dà confidenza e fiducia di essere esauditi. Gesù è la certezza che Dio ti ama. In Gesù Cristo tu sei amato, sei benedetto. In Gesù sei perdonato, sei rigenerato. In Gesù Cristo, fratelli, tu sei figlio. Tu sei redento, sei santificato. Perciò apri la vita a questa grazia e esegui questa grazia. All'odio e gloria di colui che ti ha redento e salvato. Nel Vangelo Gesù ci dà un insegnamento dicendoci che la grazia che abbiamo ricevuto non è per essere nascosta, ma perché si è messa su un candelabro. La luce deve illuminare. Tante volte il Signore ci concede dei doni, ma non sono per vandarci, ma se il Signore ci ha dato quella grazia, testimoniamo quanto Lui ha fatto per noi, per dargli gloria. Vi ricordate dieci librosi guariti? Uno tornò a ringraziare, ma dieci erano stati guariti, e gli altri nove chiese Gesù dove sono. Quindi chieda a noi, il Signore, di accogliere con gioia il suo dono. Vi ricordate la testimonianza di quella donna libanese guarita, San Sharber Macroof, che si era nascosta per non farsi vedere dai curiosi? E il Santo tornò di nuovo a dirle, ma io ti ho guarito perché tu dia testimonianza. Così quella donna pakistana musulmana che fu guarita dalla paralisi da Gesù che le apparve con i dodici apostoli. Le parole di Gesù ti ho guarito perché tu dia testimonianza al tuo popolo, che è anche il mio popolo, anche se non siete nella fede in me, ma io vi amo, ho dato la vita per voi. Quindi tu sei un popolo che io ho acquistato a prezzo del mio sangue. Quindi dai testimonianza. Non esibire il tuo onore, ma da gloria a Dio per quanto ha operato per te. E questo ci dà la capacità, fratelli, di acquistare sempre più il coraggio della fede. A volte non si tratta di testimonianza di qualcosa di grande, ma anche qualcosa che può essere semplice, come quella, la liberazione che il Signore ti ha nato, la pace che hai introdotto nel tuo cuore, il sostegno che hai avuto in qualche circostanza difficile. Tutto dia gloria al Signore. Ed è una cosa bella quando ci si incontra, poter condividere con altre persone le grazie che il Signore ci ha favorito per dare gloria a Lui, sempre e solo per dare gloria a Lui. Quindi, fate attenzione, dice Gesù, a quello che ascoltate, con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi. Anzi, vi sarà dato di più. Signore Gesù, Tu ci hai dato tutto di te. Non ci hai dato un semplice dono, ma la tua vita, il tuo amore, la tua grazia, ci hai assimilati a te. È un mistero grande che la nostra mente non riesce a percepire e che il nostro cuore non riesce a contenere. Dona a tutti noi, Signore, questa grazia di abbandonarci a questo amore, di lasciarci penetrare a questo amore, come San Tommaso, che anche in mezzo alla tempesta non distordia lo sguardo e la mente da te. Eri diventato vita della sua vita. Questo ti chiediamo per tutti noi, di vivere in comunione con te, di dimorare in te, presso di te, dove troviamo rifugio, dove troviamo conforto, dove troviamo riparo, ma anche dove troviamo abbondanza di vita, nutrimento per la nostra anima. A te, Signore, gloria, onore e potenza. E ti ringraziamo per il sangue tuo che hai messo le nostre mani, che ci dà piena libertà di presentarci davanti al trono del Padre per renderti gloria. E tu, Vergine Santissima, piena di grazia, piena di fiducia, continuamente nella Chiesa, continua a diffondere la grazia e a partecipare la grazia che tu hai ricevuta, perché la nostra gioia sia piena. Anche sulla roda e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E la grazia del Signore oggi, fratelli, ricolmi e guidi tutta la vostra vita. Amen.